ciao ragazzi oggi siamo a sgombri la barca un pesca tradizionale con la pastura e con la sarda poi ovviamente proveremo sempre con i nostri rischi artificiali e niente ci vediamo in navigazione siamo saliti a bordo adesso sto prendo le calme acciughine pronte primo pesce incannato sugarello no sgombretto sgombretto mangiatina ragazzi ragazzi sgombro lanzardo va che bello lanzardo eccolo ce l'ho è questo sgombro eh madonna se tira madonna tira questo eh bello ce l'ho ecco tu sono amato un attimo pesce incannato vediamo cos'è questo qua lo rilascio dai sugarello microscopico adesso abbiamo i sabicchi ragazzi e che ce ne ha uno ce l'ho uno io ok ferrato poi la recupero questo qua non sgombro oppure son due spero che siano sgombro guarda si mangia questo no non lo mangia guarda che è una micropalamita sai quanto grandi diventano quelle anche il suro li veriamo si eh ma ce la prendi di solida no no ce la faccio guarda si pisce cannato la palamita ecco la mano da solo pesce incannato ragazzi penso sia uno sgombro o ce la soglia madonna tira eh merlano preso per male è un merlano merlanino piccolo merluzzo preso ragazzi il sabicchi oggi sta funzionando questo qua tira anche eh adesso ti staglio più l'ho finito ti vissuto no no dai su garelli della pancia pesce ragazzi merlano per la coda eh no eh perfetto ragazzi pesce incanna mi sta andando in Croazia sgombro che secondo me voleva prendere il jig però ho preso oh ha lamato con jig il jig non lo so con cosa l'ho preso magari voleva attaccare il jig pesce incannato mi sembrava piccolino infatti è un merlano questo qua è più bello pesce no no era una botta unica è uno questo pesce incannato cos'è pesce pesce preso ragazzi no ma che c***o ma i merlani come mangiano oggi qua hanno incannato una bestia oppure ce ne sono due tre ah una be- madonna c***o un altro pesce ragazzi non finiscono più ma va come prendo i merlani monti dei pesci facciamo la zuppa facciamo la zuppa con questi è un altro merlano questo è un altro merlano eh no un chiozzo un ghiuzzo devi diciamolo si si non è buono un ghiuzzo questi qua li pre- un ghiuzzo nero penso primo ghiuzzetto della mia vita lo rilasciamo partito berlano vabbè li prendo col savichi pesce incannato questo questo sembra pure bello no provaci ti pensi orata pesce ragazzi oh papà sta mangiando sta mangiando lì oh lo tiro su io anche quello sgombro 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 raga preso oscura garello piscione c'è piscione sta un gombro bello tra l'altro ci vado a me no ma mi ha dato un colpo secco maria è grosso è grosso ah ecco perché era grosso è preso per la schiena è piccolissimo pesce ragazzi penso sia uno sgombro abbastanza poco tutto in patria no vabbè no sugarellino sugarellino pescione questo raga è bello la porta si apre ah c'è la pescione ragazzi una poca spaviamo e lasciamo andare eccola là se ne torna giù insieme ai suoi amici pesce incannato con la sarda su garello è neanche brutto proprio sul labbro un merlano micro pesce ah no sugo micro sugarello rilascio raga un bel pesce gombretto pesce ragazzi tira eh penso sia uno sgombro pesce pesce ragazzi tra l'altro la videocamera la videocamera spenta c'è tra l'altro ho la videocamera tra l'altro la videocamera scarica quindi fra un po' non potrò più farvi vedere le catture oi eh non so quella in barca bello ho preso appena appena guardate che bello sgombro puro questo ragazzi ho canciato un pescione anche sul sabicchio ho preso ho preso sul sabicchio anche ho preso no no lascia lì lascia lì maria è una bestia è una bestia oppure l'ho preso tirato anche sul sabicchio ho preso si guarda madonna mia è una bestia tira sul sabicchio ma no è il piombo sotto lì no guarda no ma ce l'ho ce l'ho ce l'ho sotto qua ma è sgombro oppure ma lui si è alzato e si è alzato no ti capisci la canna appena dopo mia mia è una palamita ed eccoci qua ragazzi purtroppo a questo punto la batteria della mia gopro è morta però comunque dopo ho continuato a pescare e sono riuscito a prendere questi sgombri che vi sto facendo vedere e tra l'altro ho preso anche questo pesce che non ho la minima idea di che pesce sia comunque fatemelo sapere nei commenti se lo sapete e diciamo che la giornata è andata molto bene anche perché ho preso il mio primo biozzo e la mia prima palamita tra l'altro due palamite piccolissime però dai mi sono divertito e spero che il video vi sia piaciuto se è qui vi è stato lasciate un like iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdere nessun fantastico video ciao 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 Grazie.